La natura equilibrata del sistema, verso la nuova era dello spirito, attraverso Pietro Ubaldi. Così il dolore ci appare in tutta la sua importanza di ricostruttore della vita, nella sua vera funzione di riequilibratore come compensazione espiatoria, di educatore come assimilazione di esperienze e formazione di coscienza, nella sua funzione di riordinatore come compensazione espiatoria, di educatore come assimilazione di esperienze e formazioni di coscienza, nella sua funzione di riordinatore del disordine come riassorbimento del male, infine come fattore di evoluzione e strumento di felicità. Il dolore, data la natura equilibrata del sistema, è una forza che col manifestarsi si consuma, si stanca e si rovescia nel suo contrario. È nello stesso tempo un eccitante di attività, un allenatore e un istruttore, cioè un creatore di qualità che lentamente ci rinnova in meglio, ci robustisce e arricchisce. E infine un grande armonizzatore che riporta l'essere ribelle e caotico a funzionare organicamente secondo il pensiero e la volontà di Dio. Il mondo è anche in questo campo completamente fuoristrada. Il dolore non si risolve con sistemi esteriori, sovrapposti, coattivi, distributivi, ma solo comprendendo e seguendo la legge. L'uomo si accanisce contro gli effetti e continua a seminare le cause. Ma è inutile voler sopprimere le ultime conseguenze sensibili. Esse risorgeranno sempre, finché non sopprimeremo invece i precedenti da cui esse derivano, sia col non più determinarne la formazione, sia col riassorbirne le spinte risultanti. Finché noi agiremo solo esternamente e meccanicamente, con la forza o l'astuzia, noi perderemo il nostro tempo. Le cause restate intatte continueranno a ripetersi e a produrre i loro effetti. Le malattie si curano non cancellando coattivamente i sintomi rivelatori, ma innestandosi nelle cause e condizioni del fenomeno, seguendo e non forzando le sue leggi.